Tiziana Ciletto, per finale, appuntamento a Calvisio dove e quando? Allora, a Calvisio, al Retrattoria Inegagge, lunedì 8 alle ore 19. Noi aspettiamo la popolazione di Calvisio come abbiamo aspettato quella di Varigotti la scorsa volta e andremo in tutti gli altri rioni di finale. Noi stiamo per parlare col cittadino, il nostro motto è i cittadini prima di tutto e quindi vi aspettiamo numerosi per parlare con voi dei vostri problemi, delle proposte di soluzione e per noi darvi le nostre proposte se vi potranno piacere. Grazie, a lunedì.